... Proviene da Cassino, è un giovanissimo rampante con un solo match all'attivo da professionista Signore e signori, un grandissimo applauso a Luca Cerovesi! Siamo pronti per cominciare, la tensione è alta Fatemi in bocca al lupo, questi due ragazzi applaudendo, signori e signori Primo round Grazie 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 Oggi andiamo qui nel chione. Voi! Voi! Vai! Vai! Vai, vai! 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 Sì, sì, sì. se volete i miei mani mi muove se volete i miei mani mi muove ecco, lo tu hai scoperto va bene va bene va bene al giusto, voglio stare in contatto fine prima ripresa seconda ripresa vai 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 Vai, vai, vai Vai, vai non si tratta no, vieni ragazzo ti teme caricato la bandola devi essere il scattore ci è costituito qui hadto Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi. 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 Ehi, ehi, ehi. 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 Ehi, ehi.